Ciao ragazzi, ben ritornati in questo nuovissimo video Allora ragazzi, questo video lo sto registrando che stiamo per partire ad un concetto ma io, sapete che mi voglio tanto tanto bene no, scherzavo ho deciso di registrare il video allora ci saranno vari punti di quando andrò al concetto è di Max Gazze a Lugano no, a Chiasso, sbaglio, scusate e niente, ci vediamo quando siamo andati giù beh ragazzi, a dopo eccoci ragazzi, arrivati al a Chiasso allora, stiamo per arrivare al concetto sempre di Max Gazze come vedete sto filmando il sole che sta tramontando ci abbiamo messo in una vita perché c'era la colonna e vi giuro è stata una noia, ma una noia vabbè, ci vediamo al concetto, bello Siamo arrivati e mangiamo intanto siamo qua con i nostri amici ci vediamo dopo al concetto sto tornando perché perché c'è detto il concetto no, non proprio concetto c'è un DJ ok, ci vediamo dopo al concetto è una canzone, io la voglio va bene ci vediamo dopo bella eccoci ragazzi siamo qua questo è il DJ bene, penso che avete capito aspettiamo che arrivi Max Gazze faccio del volume al massimo quello dell'istruzione perché non siete niente lo so, appunto ti parli sto parlando forte allora ci vediamo dopo quando c'è Max Gazze è bella 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 Poi prendiamo lo spazio più profondo nei tuoi occhi Ho visto stelle accendersi di scuole Ma te sa che siamo differenti, troppo distanti Troppo distanti Perciò ragazzi siamo qua, è sempre col mio amico Allora come vedete è stranotte No 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 Comincia una nuova No non dite che non è l'acqua Troppo la notte Eh? Allora ragazzi Qua siamo circa a metà della cante Si è a metà di tutto il concerto aspettate che mi faccio e poi non lo so mi faccio vedere l'ora comunque vai sono le 23-39 e e vabbè e siamo circa a metà concerto quindi ci vediamo alla fine o meglio se c'è una canzone bella ve la faccio vedere ok allora bella ciao ragazzi questo è l'ultimo video che sto registrando spero che vi sia piaciuto volevo farvi sentire una canzone ma c'è stato un problema che non andava e mi dispiace mi dispiace avrei voluto taggare qualcuno ma vabbè fa niente comunque per questo video è tutto vi ringrazio per la visione vi ricordo di lasciare un bel mi piace condividete in tutte le pagine facebook ovviamente siamo una bella pagine facebook ma che cavolo sto dicendo vabbè condividete è bella ragazzi che ci vediamo a tutti